Si continua a discutere sul caso Italo Delisa, il giovane, freddato davanti a un bar con tre colpi d'arma da fuoco dal marito della donna, che il 21enne, aveva ucciso in un incidente stradale a luglio. Un caso che scuote l'opinione pubblica per l'accanimento che si è scatenato sui social network, su una vendetta, quella del marito, per molti giustificata dal dolore per la perdita e da altri per l'esasperazione che scaturisce, da una giustizia lunga e non appagante per il popolo del web. Una campagna d'odio contro Italo Delisa, denunciata dalla famiglia, che ha spiegato il clima di paura nel quale viveva il 21enne da quel terribile incidente. Paura di uscire di casa, ambiente ostile, isolamento e continue richieste di giustizia per Roberta, come recitavano gli striscioni esposti nel corso della fiaccolata in memoria della ragazza. Fabio Di Lello era un uomo che soffriva e che non riusciva ad accettare quella fine. Si recava ogni giorno sulla tomba della moglie e su quella tomba è tornato dopo l'omicidio per deporre la pistola come gesto di resa, costituendosi poi alle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni la famiglia di Italo Di Lello, per mezzo del proprio avvocato, chiede di identificare tutte le persone che abbiano fomentato quell'odio sul web, trasformandolo in un'istigazione all'omicidio. Nella tarda mattinata si è svolto l'incidente probatorio in tribunale. Il giudice ha acquisito i tabulati telefonici e i contatti del web di Fabio Di Lello. I due non si conoscevano e non erano soliti frequentare gli stessi luoghi. Italo Delisa, inoltre, dopo l'incidente stradale, costato la vita alla moglie del suo assassino, si era allontanato da Vasto per essere curato a Pozzilli. Tornato da poco in città, visto il clima d'odio che vedeva ancora fissi in molti luoghi i manifesti che recitavano Giustizia per Roberta, non usciva molto e frequentava solo quel bar, a pochi passi da casa sua. Secondo la ricostruzione di Lello, ha avvicinato Italo Delisa e dopo averci scambiato poche parole si è allontanato per andare in macchina, prendere la pistola, tornare indietro e freddarlo con tre colpi. I due non si erano mai parlati prima ed ora si indaga anche per scoprire se esista un complice che ha informato, Fabio Di Lello, della presenza del 21enne al bar. Nel frattempo si è scoperto che Di Lello si sarebbe disfatto di tutti i suoi averi con donazioni verso i propri genitori, quasi un testamento. Inoltre, secondo le indiscrezioni, Roberta Smargiassi sarebbe stata incinta e proprio a febbraio avrebbe reso padre l'uomo che oggi si trova in carcere a Vasto.